Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro MK Donuts. Intanto spero che stiate tutti bene e oggi andiamo ad affrontare questa partita contro l'ultima in classifica. Budget trasferimento 5€. Ma come 5€? Vabbè. Comunque, tristezza immane. A parte questo, io volevo vedere i messaggi, no? Perché c'era Kazumu che voleva giocare, assolutamente. E no, non voglio uscire. Allora, quest'oggi giocherà sicuramente Kazumu. Faremo un po' di turnover comunque. Mettiamo Kazumu per Surman e Sorensen. Oggi gioca Walker. Till va benissimo. Allora, Polo Layered. Layered. E va bene così. Poi, Yates comunque qui. Hoffman. Takkar. Anzi, Takkar. No, vabbè. Oggi che siamo contro l'ultima in classifica, Hoffman titolare. E al posto di Fraser, Yates. Che io ci credo molto in questo ragazzo. Ci credo veramente molto. Secondo me potrà essere il futuro della squadra. E me lo auguro con tutto il cuore. Sinceramente parlando. Allora, ragazzi. Si parte. Oggi parte ufficialmente la rincorsa all'Aston Villa. Primo in classifica. Perché noi vogliamo vincere questo titolo. Seppur non sia la Premier League ma la Championship. Vogliamo comunque vincerlo. Perché sarebbe prestigioso. Alla fin dei conti. Arrivare in Premier League con la vittoria del campionato. Se una delle due squadre prenderà su. Se si può. Perché no. Però intanto bisogna vincere, ragazzi. Cosa non scontata. Seppure siano ultimi. Non si sa mai. Appunto. 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 Parte subito forte il Portsmouth con Harrison. che fa l'1-0. Mortacci. Mia. La difesa ha fatto pena. Si parte in salita. Veramente in salita. Kasumu. Sorensen. Anzi. Yates. Walker. Walker. Vede Hoffman. Vede Hoffman. Bel passaggio. Yates di testa. Gliel'ha passata. Avevi tutta la porta libera. L'unico buco in cui c'era il portiere gliel'ha data. Io veramente. Che ti devo di? Sembra fatta apposta. Comunque. Non abbattiamoci. Ho detto non abbattiamoci. Si può non abbatterci. Si può? Rubiamo sto pallone. Qui si giocano bene. Ho già capito. Solo contro di noi giocano bene. Sono ultimi in classifica. E giocano bene solo contro di noi. Bravo Collins. Dai. Ho detto bravo Collins. Poi arriva Kelly che fa una papera. Kelly. Bravo Kelly. Dai. Ti ho perdonato. Walker. Per Hoffman. Per Kasumu. 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 Koulibaly. Vede Hoffman. Hoffman. Tenta il tiro. Ma c'è il portiere che para. Io l'avevo avvento riangolata. Però me l'ha data la centrale. Sorensen. Kelly. Testa. Rigore. 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 Rigorissimo. Boh. No. Ragazzi tira Kelly. Il rigore l'ha preso Kelly. E tira lui. So che è un rischio ma. Voglio premiarlo. Kelly. Kelly. Ti prego. Ti prego. Non farmi pentire. Bravo. Bravo. Prendi questa palla. Che siamo sotto. Cioè siamo sotto. Siamo solamente in parità. E bisogna stravincere oggi. Bravo Kelly. Che se ne code il pareggio. Tramite rigore. Rigore che secondo me. Non è che. Non mi sembrava così. 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 Così netto però. D'altronde. Non lo so. Non lo so perché non l'ho neanche rivisto bene sinceramente. Però non mi sembrava netto. A prima. A prima visione. Ecco insomma. Bene. È come se fossimo 0 a 0. Bravo Laird. Ottimo recupero palla. Walker. Hoffman. 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 Ri-Hoffman. Ancora Hoffman. Bravissimo. Till. 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 Ci prova. Il portiere para quasi senza farlo apposta. Cioè. Di per caso. Brutta parata del portiere qui eh. È stato molto impreciso. Bravi. Stiamo dominando. Yeats. Mamma mia. O tira troppo alto. O tira troppo basso. Cioè. Nel senso. In realtà. Volevo dire. Troppo forte. O troppo debole. Non c'è la via di mezzo sto giocatore. Purtroppo. Deve ancora crescere molto sul tiro. Però l'inserimento ce li ha eh. Ha delle buone caratteristiche. Peccato che. I tiri siano quello che siano. Bravo Kelly. Hoffman. 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 Niente. Ho provato ad allungarmela. Aveva quasi funzionato. Se non fosse per. L'altro giocatore difensore che me l'ha rubata. Bravo Kasumu. Ancora Hoffman. Bravissimo. Per Walker. Walker sulla fascia. C'è Kasumu. No Kasumu. Com'è fatto a sbagliare? Fortuna che volevi giocare. Daie però. Daie. Che gol mangiato. Che gol mangiato. Veramente. Io non c'ho parole. Bravo Walker. Sorensen. Yates. Bravissimo per Walker. Hoffman. Hoffman. Per Yates. Mamma mia Yates. Fai dei tiri che sono inguardabili. Sono inguardabili. Ma come si fa a tirare così piano? Sembra che abbia paura del portiere. Che si faccia male. Ancora Yates. Hoffman. Per Till. Non so per chi ma va bene. Bravo Leird. Sorensen. Bravissimi. Bravissimi. Kasumu. No Till. No Till. No Till. Santo Dio. Harrison. Contro Collins. Cosa fa questo? Fa poco il fighetto. Bravo Kelly. Ottimo. Dai. C'è ottimo. Una 1 che si potrebbe fare meglio ma... Al momento mi tocca accontentarmi. Mi tocca accontentarmi e... Niente. Non farei cambi. Per ora. Poi nel caso che... Li faremo. Però... Vorrei dare fiducia ancora a Hoffman. Se... Se si può. Allora... Yates. Kasumu. Mamma mia che brutto passaggio. Kasumu. Sì sì hai mangiato un gol. Fai dei passaggi che fanno schifo. Oggi veramente non ci siamo eh. Scusa se te lo dico ma oggi non ci siamo molto. E volevi giocare. Cioè. Ok che vuoi giocare. Però dimostrami che puoi fare un giocatore serio. Cioè giochi ma fai una buona prestazione. Non che poi fai schifo. Bravo Till. Bravo Till. Per Hoffman. 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 Bravo. Bravo. Hoffman mi ha stupito. 2 a 1. Finalmente torna il gol anche lui. Finalmente. Perché sinceramente quest'anno... È mancato molto eh. Devo dire la verità. Fortuna che c'era un super Dakar che ha rimpiazzato. È mancato benissimo Hoffman. Però... Ne ha fatti pochi quest'anno. Un po' mi dispiace perché è un giocatore veramente fondamentale per noi Hoffman. Però... Può capitare con i momenti di difficoltà. Possono capitare. Bravo Collins. Kasumu. Hoffman. Cosa fai Hoffman? Cosa fai? Ti stavo elogiando. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi... Mamma mia. Bravo Collins. Kasumu. Kasumu. Vede Hoffman. No. Per poco non c'è arrivato. Per pochissimo. Voglio fare un pallonetto soffice. La fine è l'unica cosa che potevo fare. Comunque la situazione è lì. Però non è arrivato nel momento giusto. Walker. Hoffman. Eh vabbè. Ci manca un po' di precisione nei passaggi finali. Avessimo quella staremmo vincendo 5-1. Staremmo vincendo ma... Ci manca troppo questa cosa. Kasumu. Sorensen. Yates. Per Hoffman. Eh si calcio d'angolo. Buonanotte. Rimesso laterale. Bravo Yates. Bravissimo. Come giochiamo? Yates come sempre fa dei passaggi. Vabbè. Spero che vediamo i migliori sotto questo punto di vista. Perché è veramente inguardabile. Cioè scusatemi ma non si può vedere. Eh. Pellegri. Eh. Possiamo mettere Adi. Ottimo. Teal oggi. Mettiamo anche... Anche... No vabbè. Facciamo finire a Kasumu e Yates. Che ce la possono fare tranquillamente. Visto che non giocano quasi mai. Tanto vale oggi. Fai giocare fino alla fine. Bravissimo. Kasumu. Hoffman. Per Walker. Ancora Hoffman. No. Hoffman. No. Hoffman mio. I passaggi. Niente. Hoffman. Non ce la può fare. Non ce la può fare Hoffman. Con i passaggi. È malato. Ha qualche problema. Mamma mia. Avevo paura che lo stendesse in area di rigore. Per un attimo. Bravo Kelly. Che intervento. Ha avuto paura a cliccare ogni tasto possibile anche lì. Yates riparte. Per Hoffman. Hoffman. Mamma mia. Attenzione Hoffman. Finalmente si è ripreso. Il campione si è ripreso ragazzi. Il campione si è ripreso. Doppietta. In scioltezza quest'oggi. Bravissimo. Bravissimo. Finalmente anche lui si è visto. Finalmente. Quanto ci è mancato. Quanto ci è mancato Hoffman. Dai. No. Kasumu no. Bravo Walker. Bravissimo Walker. Bravissimo Walker. Bravissimo Walker. Bravissimo Walker. Per Pellegri. Pellegri. Torna al gol anche lui. 4 a 1. Torna al gol anche lui. È appena entrato. È appena entrato. Tipo. Quanto. Un minuto neanche. Bravo. Tutto merito di Walker. Walker ha fatto una discesa. Meravigliosa. Meravigliosa ragazzi. Meravigliosa. Oggi Walker comunque ha fatto una bella partita. Siamo sinceri. Ha fatto una bella partita. Bravissimi. Kelly. Kasumu. Pellegri. Cosa fa Pellegri? Perché tu non è indietro? Pellegri che fai? Boh. Pazzito. Totalmente. Attenzione perché è pericoloso. Bravo Kelly. Walker. Walker. È calato completamente. È però Walker. Continua. 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 Cattiveria. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. No. Collins. Bravo Collins. No Collins però. Bravo Kelly. Che è successo? Ah fallo per noi. Ok. Ero un po' impaurito per un secondo. Fortuna che non era quello che pensavo. Sarebbe fallo su Kasumu. Me l'ha un po' attrattenuto. Mannaggia all'arbitro. Bravo Kasumu. Bravo Kasumu. Bravissimo. Bravissimo. Cattivo. 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 Kasumu. No vabbè non ci credo. Yates di testa. Vabbè. Una volta che aveva fatto un bel tiro una volta. Non ha fatto gol. Poverino. Un po' mi dispiace per lui. Un pochettino. Vabbè. Va bene. Ragazzi. 4 a 1. Bellissimo. 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 Abbiamo trovato Hoffman. Il gol di Pellegrini. E un Walker in grande spolvero. Più di così non si poteva fare. Ha fatto pure con Kelly oggi. Cioè quindi. La Stone Villa. Perché non potevo vederlo? Porca miseria. Vabbè. Intervista. È stato straordinario. Come sempre. Dai. No scherzo. Ultimamente no. Però dai. Il solito era sempre straordinario. Non è un'ossessione. Non deve diventarlo. Ma quale equilibrato. Erano ultimi in classifica. Ma che. Mi pigliano per il culo. Le interviste di FIFA sono sempre dei migliori. Ultima contro seconda. Ci si aspettava un match più equilibrato. Che devo dirti io. Va bene Kazuma. Autorevole. Sì vabbè. Insomma. Quello che è. Oh. Abbiamo una coppa. Contro il Portsmouth. Sempre. Vabbè. Qui è abbastanza facile. Sono scarsi come prima. Allora. Jack. Jack sta crescendo molto bene. Però. Però non so. Mi dà un po' di preoccupazione. Che il potenziale è un po' abbassato. 81-87. Però. Insomma. Sono all'imprestito. Per due anni. Ottimo. Mercato aperto. Gennaio. No. Vabbè. Ragazzi. Una cosa. Una cosa. Visto che non arrivano più. I rapporti primavera. Ecco perché non arrivano più. Però mi sa che non abbiamo soldi. E questo è il problema. Visto che siamo in Inghilterra. Io vorrei gente inglese. Dove sta la gente inglese? Qui? Inghilterra. Sì. Noi mesi. Non ho soldi. Rega. Non ho soldi. Non ho soldi. E come faccio io? Ho 5 euro. Che cazzo di mercato faccio con 5 euro? C'è. Tipo Conte. Il ristorante da 5 euro qua. Manco 10. Vabbè. Allora. Visto che oggi è fuck up. Pellegri. Va bene. Goldaniga. Va bene. O Walker. Walker. Boateng. Per Fraser. E va bene. Surman. Adli. Che torna. Finalmente. Jutton. Va benissimo. Harvey. Kergil. Keov. E Paul. Va bene. Direi che un po' di turnover ci sta. Cavolo ragazzi. Se si perde questa. Io non so cosa dirvi. Cioè. Cosa li devo dire. Sono contento che la squadra si sia un po' ristretta. Perché eravamo in troppi. Anche se Rinole è in prestito ci farà bene. Tanto alla fine non posso giocare tutti quanti. Non c'è spazio. E quindi sarebbe solo a perdere per i giovani. Allora. Allora. Ragazzi. Si inizia. Cerchiamo di andare avanti. Anche perché con 5 euro non ci possiamo stare. Quindi insomma. Comunque 5 euro ragazzi. Una tristezza veramente immonda. Se si può dire. Ma manco i giovani possiamo cercare. Non mi era mai successa una roba del genere. Non mi era mai successa. Ma come siamo finiti a fare così schifo con 5 euro. Cioè. Ne avevano di più. Se non ricordo male. Non so dove li ho spesi. Ma ne avevano di più. Bravissimo. Pellegri. Pellegri da solo. Pellegri bravissimo. Surman. Per Adli. 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 Chi c'è in mezzo? Bravo Adli. Bravissimo. No. Peccato. All'ultimo fermato. Bravissimo. Wateng. Wateng. Niente. Walker. C'è Walker. C'è Walker. Calma. Sicurezza Walker. Ancora Walker. Tente cross. Calcio d'angolo. Ancora Yukton. Per Pellegri. Ancora Pellegri. Niente. Nemmeno un calcio di rigore. Così inventato. Niente. Peccato. Ci poteva stare. Dai. Bravissimi ragazzi. Ancora Pellegri. Pellegri. Per Surman. Non è fallo? No eh. Magari. Si riparte. Con i Portsmouth. Che cerca un po' di vendetta dopo la partita in campionato persa 4 a 1. Wateng. Mamma mia Wateng. Però ti addormenti. Ti addormenti. Eh. Immortaci tua. Non puoi dormire così. No. Che off. No. 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 Bravo. Che off. Bravissimi ragazzi. D'altra parte. D'altra parte. Niente. Non capiscono. Vabbè. Va bene lo stesso. Pellegri. Pellegri. Walker. Devi partire. Non so se ti è chiaro questa cosa. Walker. Walker. Fino in fondo. Boateng. Perfetto. Harvey. Adli. Pellegri. Rigore. Rigore netto eh. Che cavolo. Questo era proprio netto netto eh. Ci sta anche giallo. In un vorrei di ma. Era netto netto. Cioè. Che robe. Cioè. Vabbè. Ma che surman. Tira Pellegri. Se l'hai procurato. Giustamente. Bravo Pellegri. Dai. Di potenza. Di potenza Pellegri. Ma porca troia. Non ci credo. Non ci credo. Jukton. Pellegri. Ci riprova. Ma niente. Che sfortuna. Che sfortuna. Bravo di portiere qua a intuire l'angolo. Comunque non l'ha neanche munito eh. L'altro giocatore che ha fatto fallo. Cioè. Incredibile. Era da già onetto. Ultimo uomo. Intenzionale. Neanche l'ha munito. Io cosa devo dire. Cosa devo dire. Calma. Bravo. Cazzo fai. Curgy. Si può sapere. Bravo Pell. Assurman si adunga un po' troppo. Bravissimo Curgy. Bravi ragazzi. Ripartiamo. Ripartiamo subito. Boateng. Walker. Walker. Eh però Walker si addormenta un po'. Un po' si addormenta Walker qui. Che off ancora lui. Pellegri. Boateng. Boateng. Per Walker. Bella palla. Pellegri. Niente. Ancora Pellegri. Niente. Mamma mia. Che sfortuna sto ragazzo oggi. Che sfortuna. Yukton. Occhio al pallone in mezzo. No. Ma come? Non riusciamo a far gol. Incredibile. Stiamo sprecando tantissimo. Ma tantissimo. Pellegri. Adri. Surman. Surman. Pellegri. Niente. Il portiere fa ancora un'altra bella parata. Oh è incredibile oggi. Yukton. Pellegri. Vuol dire che è lo stesso portiere dell'altra volta. Non è che si è cambiato. Boateng. Keough. Kurgill. Surman. Surman ha sbagliato il passaggio. Ma anche Pellegri che però si fa vedere male. Pellegri. Avrebbe concesso qualcosina di più francamente. Boateng. Boateng. Sei infilato. Boateng. No che culo. Che culo ragazzi. Anche perché io la volevo passare a Walker. Non a Boateng. Quindi proprio. Hanno fatto quello che volevano. Ma Boateng segna 1 a 0. Che finalmente apre un po' la partita. Era ora. Direi che era ora. Ottimo Yukton. Ottimo. Ottimo assist. Insomma. Stavamo per sbagliare ancora eh. Cioè c'è mancato poco che sbagliava sta palla. C'è mancato veramente poco. Comunque l'importante è per il momento portarla a casa. Anche perché quest'anno la fa cap si può fare. Siamo meno mai attrezzati. Cioè nel senso. A meno arrivare verso i finali. Cioè i quarti, gli ottavi si può fare no? Non è una cosa così complicata. Nooo. Ma che cazzo. No. No. Non farlo passare. Per nulla al mondo. Che off, che vuoi tuo. Bravo Che off. Non lo fa girare. Bravo Che off. Ancora. Siamo ancora lì, giocatori avversari. Bravissimo, Kergil. Oggi veramente abbiamo una difesa che sta murando praticamente. Bravi ragazzi. Si riparte. Adli. Adli. Sulla fascia. È veloce. È veloce. È veloce Adli. È veloce Adli. Vede Pellegri. Però c'è anche il portiere. Però c'è anche il portiere. Mamma mia cosa ha fatto qui. Fuori. Fuorissimo. Bravissimi. Ancora Adli. Ancora lui. Comunque Adli sta crescendo un botto rispetto all'inizio anno. Che faceva veramente pena. Ricordiamolo purtroppo. Poteng. Per Walker. Walker vede Pellegri. Che palla gli ha dato Walker. Che palla gli ha dato Walker ragazzi. Quanto è stato importante il suo riscatto quest'anno. Quanto è stato importante da 1 a 10. Ottimo. 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 Poi Pellegri se sbagliava giuro che lo mandavo a zappare la terra. Cioè veramente. No eh. Basta sbagliare il gol. Pellegri. Bonus finiti. Ancora Pellegri. Ancora lui. Di cattiveria. Eh vabbè. Dopo un po' il culo finisce. Però. Sai. No Arby. Bravo Keov. Bravo Keov. Che salva tutto. Che salva tutto. L'hai visto. Adli. Adli. Surman. Al volo. Mamma mia. Mamma mia Surman. Cosa ha fatto. Come si è coordinato. Che giocatore pazzesco. Che giocatore pazzesco ragazzi. Ne vogliamo parlare? Pellegri. Pellegri però Adli. Che palletta però. Che palletta. No però. Il passaggio sbagliato. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. E secondo me è la scelta giusta. È un momento giusto. Aia. Che intervento pessimo. Giallo. Giallo. Per fortuna. Per fortuna. Allora. Visto che Surman è stanco cotto. Ci metto. Ci metto. Kasumu. Così prende un po' di. Di altro morale. Mettiamo. Chi gol la liga un po'? Non so cosa fare ragazzi. Taccar. 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 Dai. Dai dai dai. È che vorrei tenere quelli che non giocano tanto. Su. Su. Su possibile. Per farli crescere di morale e di condizione. Mamma mia. Mamma mia. Punizione battuta davvero bene direi. Bene ragazzi dai. No no. Harvey. No Harvey. Bravo Harvey. Taccar. Subito. Kasumu. Però Kasumu si è troppo lento. Per Yutton. Taccar. Si gira. Niente. Kasumu. Veramente troppo lento. Su questo. Scatto. Ancora Kasumu. Per Taccar. Taccar. Ancora lui. Ischia il Portsmouth. Bravissimo Adli. Ma non riesce a fermare la palla. La prossima sarà contro lo Stock City. Ci ricordano. Dalla regia. No perché? Faccio queste cagate io. Vabbè. No Yutton perde palla. Ma c'è Kerjil. C'è il muro chiamato Kerjil oggi. Si può attaccare? Devi fare 1-2. Non è che puoi fare quello che vuoi eh. Su. Bravo Kerjil. Ancora lui. Boateng. Taccar. No fuori gioco. Di pochissimo immagino. Ma. Di poco perché c'era quell'altro. Veramente di poco. Bravissimo Keo. Ma vicino da Boateng ci deve andare. Non Taccar. Bravo Yutton. Kasumu. Vede Adli. Ho detto vede Adli. Non Taccar. Che minchia c'entra Taccar in questo momento. Noo fallo. Fallo. Dai vabbè ormai siamo passati. Ormai siamo passati. Curtis. Boateng. Gravissimo. Che spazza via. Taccar. Taccar. Cosa ha fatto? Avete visto lo stop di Taccar ragazzi? Sembrava CR7. Comunque vabbè. In una parola a volte. Questo gioco sorprende. Abito può anche fischia. Bravo Keo. Ah oh. Oh. Sì. Va. Porca miseria. Porca. Volevo il clean sheet oggi. Volevo il clean sheet. Qualc'è oggi se l'ha perso comunque. Qualc'è oggi se l'ha perso. Ha perso a pulizia. Perché. Cioè se c'è che off lì tu non puoi andarci anche tu. Non serve a nulla. Sei inutile. Vabbè. Comunque. Ci siamo qualificati. Non con poche difficoltà. Anche se abbiamo dominato eh. Però il risultato denota una poca eh finalità verso la porta avversaria. Allora. Questa altra intervista. Poter vincere il torneo. Trovo presto per dirlo. Ma scusa mia. Che cavolo di domanda è? Ehm. Non è. Nessuna paura. Su. Stanley. Ma chi è Stanley? Ma chi è? Boh. Thank you. That's all the questions we've got. Vecchio Stanley. Vabbè. Ehm. Stanley olio. Ecco Stanley. Dove. Boateng. Offerta per il trasferimento. Boateng. È un giocatore che sta crescendo ancora. E sinceramente. Non lo venderei. Non lo venderei perché finché cresce. Me lo terrei stretto. Anche perché comunque gioca bene. Non è un giocatore che dici. Vabbè gioca male. No. Gioca molto bene. Boateng ultimamente. E non lo venderei mai al mondo. Allora. Siamo a 9 punti della stone bill. Siamo sempre lì. A 9 punti. Anche se ormai mi sa che. Sarà dura. Sarà dura prendere questi 9 punti. Sarà molto dura. Allora. La prossima volta. Siamo contro lo stock. Porca miseria. Lo stock city. E il vcomb. Ok. Arriviamo a metà gennaio. E poi c'è febbraio. Marzo e maggio. Aprite e maggio. Ci sono ancora tante partite. La stone villa ce l'abbiamo? Mi sa di no eh. Niente da stone villa. Quindi ragazzi niente da fare. Eh niente. Non vi dico neanche consigliatemi dei calciatori. Perché non abbiamo soldi. Ma in 5 euro. Quindi con 5 euro. Chi possa comprare. Neanche le scarpe. Nemmeno i cazzettoni. Sì. Si è messi molto male. Mi da piagne. Ciao ragazzi. No.